Allora questa qua, non lo so, forse si mette, aspetta, così, così, no, così ti copri il dolore di testa, così, 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 vabbè, vabbè, Nunzio, fino a quando poi andiamo in direct che iniziamo la puntata, poi me lo aggiusto meglio, avvisami quando, quando, quando andiamo in onda, ok? Sì, ma è moved però, da, è u, da, come siamo già in direct, e quindi se hai visto tutto quello che ho detto mi sono messo la cuffia in capo, cioè ma mi fai fare, io non lo so, lo so che i bambini si divertono quando facciamo queste cose che tu fai gli scherzi, però, cioè, facciamo sempre queste figure che ho la cosa in capo, vabbè, comunque, buongiorno amici di Chichi di Chichi, buongiorno, che lo, scusate, Minunzio, quella, praticamente, c'ha 30 anni, ma c'ha la testa di un bambino di 3-4 anni, quindi il prossimo anno lo faremo andare all'asilo, così si divertirà, e quindi, no, stavo facendo una riflessione su queste mascherine, no, queste mascherine chirurgiche, magari che si usano, usano i dentisti, usano i medici, praticamente non sono l'FP2, l'FP3, oh, e stavo vedendo, cioè, voi sapete che io parlo sempre con le carte, con, oh, allora, questa, questa mascherina, io ho chiesto a uno studio dentistico, prima del Covid-19, quindi due mesi fa, tre mesi fa, quattro mesi fa, si compravano a blocchi di 100 pezzi, cioè, cartoon di 100 pezzi, e il costo si aggirava intorno ai 10-13 centesimi, centesimi, cioè, sicuro al 100%, perché, non vi dico, per non fare pubblicità, non vi dico chi dentista me l'ha detto, diciamo che mia sorella è dentista, ecco, ho fatto una pubblicità occulta, e qui, le pagavano dai 10 ai 13 centesimi, dipende appunto dalla ditta, e c'era una disponibilità, quanto ne volevi, 10 mila, 14 miliardi, qualsiasi mascherina, c'era disponibilità, adesso che cosa è successo? Io posso capire la legge della domanda e dell'offerta, anzi, siamo andati in controapposizione, in un paradosso, perché quando, diciamo, aumenta la domanda e l'offerta, quindi sulla quantità si potrebbe fare anche, come dire, uno sconto maggiore, però hanno approfittato, io non voglio definirle queste aziende, perché altrimenti, diciamo, li offenderei, hanno approfittato, diciamo, delle disgrazie altrui, che poi non sono disgrazie altrui, sono disgrazie di tutti, perché siamo tutti nella stessa situazione, per aumentare in maniera spropositata, cioè per speculare, una speculazione ingiustificata, una speculazione ignobile, direi, perché se iniziate a vedere nei vari siti, oppure a qualche negoziante locale, cioè queste mascherine non si capisce, cioè dai 10 centesimi ai 13 centesimi arrivate anche a 1,50 euro, a 2 euro, addirittura li ho trovati anche a 4 euro, questo prezzo, cioè è veramente una cosa vergognosa, allora io dico a questi venditori, produttori, poi non si sa se la filiera è corretta dall'inizio alla fine o se poi il prezzo raddoppia di mille volte, una volta che va al cliente finale, cioè è una cosa veramente assurda, cioè da 10 centesimi a 2 euro, 3 euro, 4 euro, Allora io dico, lo Stato come ha fatto benissimo, io sono d'accordo, ha fatto molto bene a controllarci con i droni, con motoscafa, addirittura i carabinieri a cavallo, a piedi con le moto, cioè ha fatto un controllo eccezionale, così come controlla noi modesti cittadini, che magari abbiamo fatto una passeggiatina in più, oddio, non si poteva fare, quindi perché con la stessa vemenza e con lo stesso controllo non controllate l'andazzo di questo schifo che sta succedendo a questi giorni? E poi non è soltanto un discorso di un mese, perché se dal 3 maggio, dal 4 maggio scatta la fase 2 e quindi inizieremo a uscire, cioè queste mascherine almeno noi le acquisteremo, almeno per un anno, e se questi qua continuano a fare questa speculazione secondo me criminogena, cioè qua va a finire che spenderemo il nostro stipendio scritto per la mascherina, perché non è che puoi usare la mascherina, quelle sono usa e getta, cioè non è che puoi usare la mascherina, poi ci sarà un discorso di aumento dei volumi, la gente che uscirà nei ristoranti, nei negozi, quindi questa mascherina purtroppo, mettiamoci nella capa, io non sono un virologo, però sono convinto che per almeno un annetto noi, cioè la nostra giornata sarà, mettiamoci gli occhiali, ci mettiamo un mutandine pulita, la maglietta e la mascherina, farà parte del nostro vestiario, del nostro abbigliamento. Quindi pregherei le forze dell'ordine, la questura, il prefetto, il primo ministro, cioè di essere molto ma molto fermi e impassibili al controllo e alla speculazione criminogena di queste mascherine, che da 10 centesimi si è arrivato quasi a 4 euro. Quindi io penso di essere stato chiaro, Nunzio, è una cosa veramente vergognosa, cioè approfittare in questa situazione di disagio, di pericolo, cioè c'è gente che sempre pensa al profitto, a speculare, a farsi i soldi sulle disgrazie. E' veramente, cioè io immaginavo una solidarietà, diciamo, da parte di tutta la collettività, dice che c'è, c'è il Covid-19, c'è la crisi, vabbè, allora a questo modo sa che fa, io produttore, invece di darle a 10 centesimi, le do a 5 centesimi, le do a 2 centesimi, le regalo, non che devi speculare sulle disgrazie. Vabbè, è veramente una pagina molto ma molto triste della nostra umanità, del nostro modo di ragionare nei confronti sempre del Dio denaro. E' sempre quello, diciamo, la maggior wish and blonde e maccherone. Vabbè, comunque chiudiamo questo cappelletto, mi auguro che le forze dell'ordine e il ministro, provveda, perché non se ne può più, cioè, gente, non è che si può permettere di comprare le mascherine a 3 euro, a 4 euro, quando potremo uscire di casa e andremo a fare i servizi ai negozi, cioè, o deve provvedere lo Stato, così quando nevica che lo Stato provveda a buttare il sale sulle strade, deve provvedere anche alla tutela, alla salute, all'incolumità dei cittadini, fornendoci il materiale adatto, tipo, ah, per non parlare proprio degli igienizzanti, che prima gli stavano da 100 ml, costavano 1 euro e 50, adesso costano 4 euro e 5 euro, cioè, e quindi da questo punto a noi ci fermano per strada e ci multano, giustamente, però facessero gli stessi controlli, con la stessa vemenza, anche a questi commercianti speculatori. Vabbè, scusate se ogni tanto io poi mi altro, perché io odio le ingiustizie, da qualsiasi parte arrivano, venga, io le odio, quindi, Nunzio, fate capace, oggi abbiamo fatto un cappelletto lungo e velocizziamo, velocizziamo, oh, allora, facciamo veloce, velocissimo, allora, qui c'è un quadro, no, c'è anche una scritta, buonasera, siamo una famiglia di Altamura, e insieme a Victoria, sarà una parente Victoria, una Victoria, col K, abbiamo realizzato questo disegno, ah, è un disegno che l'hanno incorniciato, per augurare a tutti una pace interiore e che dobbiamo avere fede, perché tutto finirà presto e saremo più uniti e vicini più che mai. Un bacio e un abbraccio ai nostri parenti di Matera e di Altamura, dalla famiglia Clemente, Giuseppe Nicoletta, Cannito, con un grande abbraccio da Victoria. Parenti di Altamura, probabilmente loro forse non stanno ad Altamura, tu ne sei di più qua, sei qualcosa in più? No, no, ci hanno mandato questo quadro e il messaggio, non so se... Ho capito. Beh, è veramente bello, veramente bello, questa colomba della pace... Ah, è una famiglia di Altamura, ok, di Altamura, ah, ecco, sono anche ammati. Sì, complimenti, bellissimo disegno, ecco, Karnasik Victoria, ma non sarà italiana, vedi? Karnasik, ah, è Ucraina, oh, quindi tu ne sei di più di me. È una bambina Ucraina, quindi salutiamo Victoria. Bellissimo, bellissimo quadretto, la colomba è il simbolo della pace, della fratellanza e con il sole, ok, perfetto. Adesso andiamo con questo quadro, no, più che quadro, oh, qua vedo tutta roba di mangiatoria oggi. È un bel quadro, questo è un bel quadro. Eh sì, ora preghiamo un po' a Bartolo Carella, scusa, visto che sei così bravo a fare i quadri, facci un bel quadro, uno a me è un annunzio, diciamo così, che cos'è una... Vedi un po'... Cannelloni ripieni. Qui il cannellone ripieni, lui ha fatto due foto per, appunto, per far vedere il procedimento. Vediamo la preparazione e il finito, diciamo. Che sarebbe l'ultima foto, l'ultima foto. Oh, poi c'è la famiglia Giordano, che ha fatto... Che cos'è questa? Riso, patate. Ah, rito e patate e cozze, madò. Quindi qua sempre hanno mangiato, forse a Pasquetta o a Pasqua, non si sa, non hanno... Ah, questa è Pasquetta. Poi c'è la famiglia Lorus, che sicuramente sarà attitolata di una macelleria, perché c'è minimo di 10 kg di carne, ogni marito, carne, agnello. Poi mi devo complimentare, perché vedi, la cottura, è come si dice, deve essere la cottura a ciliegia, il proprio rosso ciliegia, vedi? A cerase, come si suol dire. A brusso, buonissima. A me gli involti non piace, però l'agnello... Poi c'è la famiglia Anselmi, Couturid, ah, questa è un'antica ricetta, diciamo, pastorale, dei pastori, diciamo, della Murgia, quindi facciamo parte noi materani, altamurani, gravine, tutto quel circondario. Cazza faceva con la pecra, il couturillo. Eh sì, di solito il couturillo si faceva, inizialmente si può fare anche con l'agnello, però il vero couturillo era... Perciò chiamiamo couturillo, che deve cuocere per tantissime ore, c'era, diciamo, un recipiente di terracotte, si mettevano patate, sedano, verdure... Eh sì, è pure quella, eh sì, diciamo che più o meno... Ma ci mettono le verdure, carote... Ma anche qua vedo che ci sono verdure, comunque, vedo patate, carote, vedo quella verdura che ha le spine, come si chiamano le... Eh, non mi ricordo. La cosa, che si mangiano a Pasquetta. Vabbè, è una verdura che ha le... Spinosa. Sì, ora non mi... Manga a me, ma guarda che figure che stiamo facendo. Vabbè, fatelo... C'è qualcuno lì che da te, che sicuramente lo saprà. Sì, sicuramente. Ah. È una verdura, quella... Eh, aspetta, con le spine, come si chiama? Che si mangia a Pasquetta. Come si chiama? Oh, non mi viene, non mi viene. Vogliamo chiedere l'aiuto da casa? No, vabbè. Vabbè, comunque, ve lo... Voi sicuramente, che adesso è, lo sapete, da casa, sicuramente lo sapete, che verdura è. I cardongeli. Ah, no, i cardongeli. I cardongeli. Eh, vabbè, giustamente, Arturo, diciamo che... L'editore, lui. Eh, beh, ma l'editore deve sapere tutto, quindi si intende di tutto, dalla A alla Z. Bravo, Arturo, per un chilogrammo di cardongeli non mangio. Allora, poi c'è la signora Maria Tafuni. Maddo... Immagino già, questa è proprio la focaccia fatta in casa. Eh, quella... Tutto il rispetto per i panifici, però la focaccia fatta in casa, che tu fai una... Le signore... Eh... Ne fai una sola, quindi, diciamo, non è a livello industriale. Quindi è stata fatta con il lievito, il tempo di lievitazione, l'olio extravergine, i pomodorini. Questa è proprio la tipica focaccia altamurana, che poi si somiglia un attimino alla Barese. Eh, chiedi ad Arturo, che lui sa tutto. Arturo, somiglia più o meno alla Barese, all'altamurana? Ecco, sta arrivando... Ah, bisogna vedere, la devi assaggiare. Beh, bisogna prima assaggiare. Comunque... Così cotta, così cotta. Però, signora Tafuni, tu ce la fai vedere cruda, sei cattiva. Ce la devi far vedere pure, una volta, diciamo, usciti dal forno, per farci gli occhi, almeno facevamo gli occhi. Chiediamo, così, quante altre... Eh, di farne un'altra. E' finita, e' una brutta. E' certo, e' certo. Quindi, diciamo che ringraziamo nuovamente anche i nostri telespettatori, che anche oggi sono stati precisi, puntuali, alle nostre richieste. Abbiamo detto di inviarci le fotografie dei piatti preparati a Pasqua e Pasquetta, e sono stati... Un giorno i piatti, un giorno i piatti... Un disegno che poi, tra l'altro, molto, ma molto, ma molto, molto bello. Veramente molto bello. Sì, sì, di Victoria. Ok, Nunzio, quindi siamo stati veloci, siamo stati lenti per il cappelletto, però secondo me era doveroso fare questo cappelletto di questa cosa ingiusta, della speculazione di questi prodotti. Vabbè, concludiamo velocemente. Ci vediamo domani, subito dopo di noi c'è Canale 2 C'è, e noi ci vediamo domani, mercoledì, 22 aprile, giusto? Sì. Ok, ok, per oggi è tutto. Start the boom.